A oggi ne devo dire, ne devo dire, ben ritrovati, abbiamo una nuova puntata delle recensioni sui piccoli brividi. Nel nostro salottino, salotto del libro, oggi vi parlo di questo episodio che è una spremuta speciale. Eccolo qui in tutta la sua bellezza, è una copertina parecchio interessante devo dire, una delle più belle devo dire. Non so se l'ho messa nelle mie classifiche, però adesso riguardandola non mi dispiace per niente. Anche perché un pochino si rifà la storia, è un po' una metafora. Non è proprio ciò che succede nella storia, ma rappresenta molto il concetto di questo racconto e vedrete presto perché. È il settantaquattresimo libro della collana, il titolo originale è Brain Juice. Quindi il titolo stavolta non cambia, a volte abbiamo grosse differenze tra i titoli originali e quelli italiani. Infatti a volte vi dico che preferisco quello originale, però qua in realtà sono identici. Ma non è questo il problema. Il problema è proprio la storia in sé. Esatto, capirete dalla mia faccia che non sono contentissimo di questa storia. Non so se l'ho già recensita e nelle classifiche che ho fatto in passato. Comunque rileggendola adesso, a distanza di anni, ho trovato qualche punto che non mi ha fatto impazzire. Eh, ma aspettavo alcune cose che non sono successe e viceversa. Quindi partiamo un attimo dal racconto per analizzarlo. Abbiamo nostri due protagonisti. In realtà i due protagonisti all'inizio sono due alieni. Perché in questa storia ci sono due coppie di due protagonisti molto carismatici, devo dirvi. Perché c'è la coppia di protagonisti alieni, che sono un po' Stagliolio, Franco e Ciccio, sono un po' quelle cose lì, no? La spalla è il comico principale, possiamo dire. Vale più o meno anche con i due fratelli. Perché abbiamo l'altra coppia di protagonisti, che sono Nathan e Lindy. E sono due fratellini, dodici anni entrambi. In realtà dovremmo chiamarli fratellastri. Perché vengono da... insomma, la loro madre è diversa, insomma. Però vivono insieme, con genitore, padre, madre, tutto. E anche una sorellina, che si chiama Brenda. Brenda e ha cinque anni, molto piccola. Però fa ragionamenti da persona molto più grande. Quindi un po' troppo, devo dire la verità. Cioè, sembra essere una piccola... una genietta. Capirete anche perché tra poco. E mi sembra in questo caso un po' fuori contesto, possiamo dire. Ma la storia inizia con la prima coppia, i due alieni. E li troviamo sul pianeta Terra. E sono nascosti in uno sgabuzzino a casa di questo scienziato. che si chiama il dottore Frank King. E si ritrova questo dottore King ad avere in casa due alieni. A sua insaputa, eh. Infatti si scopre che gli alieni sono lì per prelevare uno o due esseri umani da portare nel loro pianeta, che non viene mai detto che pianeta sia. Neanche se questo pianeta sia collocato nel sistema solare o fuori. Non si sa. Però è un viaggio molto lungo, questo è certo. Devono prelevare due umani per portarli da loro al cospetto dell'imperatore, che li userà come schiavi. E se poi questo esperimento andrà bene, chiameranno... no, chiameranno... cattureranno altri esseri umani, ma si parla di migliaia, eh. per fare un enorme esercito di schiavi nel loro pianeta. Allora sono qui, in questo sgabuzzino, a spiare già da una settimana, eh, il dottor King. Perché? Pensano che sia lo scienziato più intelligente del mondo. Ma perché, direte voi? Hanno fatto studi, ricerche? No. Perché c'era scritto King. Allora hanno detto, questo qui è il re degli scienziati. Perché si chiama King. In inglese funziona anche meglio, perché dicono, is the king of... Però veramente... Perché, cioè, proprio essere intelligenti, eh. Proprio iniziamo, proprio benissimo. Infatti questa coppia qua è veramente una coppia comica. Ha i limiti del grottesco. Anche per il loro aspetto ripugnante. E per il fatto che trovino ripugnanti gli esseri umani. Quindi loro si trovano bellissimi. Però gli esseri umani che vedono, per loro sono disgustosi. Quindi già capiamo. Sì, è una coppia piuttosto divertente, devo dire la verità. E non sono dei nemici. Perché è una coppia che ti fa anche ridere. E alla fine li apprezzi anche. Allora, però, questo dottor Frank, voi direte, che c'entra con l'altra coppia, con i due fratellini, è il loro zio. E questi fratellini, un bel giorno, vanno dal loro zio. E gli dicono, Caro zio, noi siamo troppo stupidi. Sì. Nathan e Lindy sono convinti di essere completamente stupidi. Proprio ignoranti. Si sono autoconvinti. Però, in effetti, ci sono un po' di prove che ci lasciano credere che loro abbiano ragione. Che non sanno neanche risolvere un cruciverba semplicissimo o risolvere i compiti di matematica o qualunque cosa. Anche le più semplici trovano difficoltà con loro. Quindi il problema diventa un pochino questo. E allora, loro vanno dallo zio che è uno scienziato e gli dicono, ma non c'è un modo scientifico per renderci più intelligenti? Lo dicono proprio seriamente. Sono convinti che lo zio abbia una pozione o che possa inventare qualcosa. Anziché mettersi a studiare. Tra parentesi, si potrebbe studiare un po' di più. Io glielo avrei suggerito. Però lo zio, che è una persona empatica che vuole, come dire, autoconvince vuole che loro si autoconvincano di essere intelligenti gli fa credere, offrendogli un succo d'uva che sia una pozione per il cervello un super concentrato per il cervello il nome testuale è questo. Glielo dà, loro sono contentissimi un pochino all'inizio un po' incerti però alla fine si convincono vanno a casa e di sera lo bevono. Questo fluido ha effetto? No. Cioè all'inizio no, all'inizio no però il giorno dopo inizia ad avere effetto. Risolvono equazioni complicatissime il loro insegnante è convinto che loro abbiano copiato proprio chiama anche cioè vuole chiamare la direttrice ma alla fine gli fa rifare il test il giorno dopo e con suo stupore loro fanno anche quest'altro test in maniera impeccabile. Allora a questo punto diciamo questi qua mi sono diventati intelligentissimi dall'alba al tramonto avranno studiato tantissimo eh chiamano anche lo zio loro chiamano lo zio e sono entusiasti e lo zio ride di gusto e dice alla moglie vedi che si sono autoconvinti di essere più bravi di essere più intelligenti? no non è andata così perché questo potrebbe essere stato in realtà un bel colpo di scena ma ce l'hanno servito in maniera un po' troppo visibile gli alieni che erano nascosti nel ripostiglio dello zio hanno visto che lui metteva questo succo d'ua sul bancone in cucina e appena è andato via un attimo per parlare con la moglie gli hanno cambiato il succo d'uva che c'era dentro con un vero concentrato per l'intelligenza allora lo zio inconscio cioè senza saperlo ha dato ai suoi nipotini un vero fluido sperimentale che poteva anche ucciderli viene detto qua dentro poteva essere letale quindi poteva finire in tragedia dopo 20 pagine invece poi loro vivono sopravvivono a questa cosa e ha effetto ma ha effetto in maniera stupefacente perché vengono addirittura cacciati da scuola perché vabbè lì se la sono giocata malissimo malissimo perché specialmente Nathan appena ha visto di essere diventato intelligente che lui ha convinto loro due sono convinti che sia dovuto allo zio Frank pensano che lui gli abbia veramente dato un fluido per l'intelligenza ma sfruttano questa cosa a livelli proprio degli sciacalli cioè scusatemi correggono di continuo il professore correggono di continuo il libro continuano ad alzare la mano per fare i precisini cioè diventano veramente insopportabili e questo poi causa la loro espulsione da dare a scuola e io dico ma non potevate? vabbè che hanno 12 anni cioè non è che anch'io ho 12 anni non è che ero chissà cosa chissà che cima non potete dosare questa cosa fate bene le verifiche fate bene i compiti le interrogazioni ma non mettetevi a fare i precisini ogni volta così eh questo è sbagliato e questa è la data lì questo te li rende anche un po' antipatici a quel punto lì perché sono proprio completamente causa dei loro problemi perché potevano avevano in mano una cosa che l'avessero sfruttata bene potevano andare che ne so a caduta libera e a vincere 280 milioni di euro con Gerry Scotti esterefatto che dice adesso come paghiamo la bolletta della luce perché dobbiamo dare tutti i soldi a loro quindi poteva succedere così invece l'hanno usata molto male questa bevanda questo potere che avevano acquisito arrivano addirittura ad avere visite a casa dopo che sono stati cacciati dalla scuola per essere troppo intelligenti e per mettere in ridicolo gli insegnanti e gli studenti sono stati presi di mira da giornali giornalisti scienziati persone che volevano un supporto psicologico di tutto sembravano due guru due guru che facevano notizie in tutto il mondo c'è anche questa scena particolarmente divertente loro scoprono che gli è arrivata davanti a casa una macchina un furgone dove c'erano dentro queste persone vestite di nero abiti eleganti e si tratta di persone del governo succede spesso anche nei film quando c'è qualcosa di particolare arriva questo camioncino con dentro degli agenti che cosa vorranno fare vorranno prenderli vorranno prelevarli per studiarli per analizzarli fare dei test e fin qua può essere può starci infatti dicono alla loro madre non vuole che loro siano di aiuto per il governo potrebbero salvare vite potrebbero trovare nuove cure allora lì dici va bene anche la madre ci pensa un attimo può anche essere occasione per fare qualche soldo in più per aiutarli anche con gli studi e così via però mi fa ridire che a un certo punto uno di queste persone dice si li portiamo lì gli facciamo fare qualche test li analizziamo un po' tutto a posto ah sì poi gli dobbiamo prelevare un pezzo di cervello niente di che poi tornano a casa di sera e vi fate un tè sì proprio così come se niente fosse gli dobbiamo staccare un pezzo di cervello Massimo per il resto ve li riportiamo a casa stia tranquilla eh poi le offriamo un deca comunque alla fine loro due ascoltando questa cosa decidono di scappare senza neanche sentire la risposta della madre quindi io dico avete fiducia zero nei vostri genitori cioè pensate che vostra madre accetti di mandarvi via e di staccarvi un pezzo di cervello ma dico aspettate un attimo invece no loro benché siano diventati così intelligenti non riescono a fare due più due e quindi scappano e vanno verso casa di un loro compagno di classe neanche amico perché era uno di quella compagnia di ragazzi intelligenti che li prendeva sempre un po' in giro quando erano ancora persone normali diciamo vanno a casa di questo qui che si scusa con loro perché vedendo le difficoltà che hanno adesso gli dispiace anche e pensa che sia un po' anche colpa sua in realtà non lo è però si scusa li trattiene lì un po' con loro per così stanno un po' in un luogo riparato a un certo punto chiamano a casa e sentono che la madre gli dice state tranquilli che non li ho fatti andare via non dovete andare col governo allora loro si tranquillizzano un po' e tornano a casa qui però succede qualcosa nel tragitto verso casa incontrano l'altra coppia scoppiettante i due alieni il locco e il furbo due locchi entrambi eh comunque che riescono a prelevarli e a portarli nel loro pianeta diciamo la trafila per riuscire a convincerli è stata gunga in realtà non è che li hanno convinti li hanno costretti perché li hanno seguiti fino a casa poi hanno minacciato di mangiare la piccola Brenda di cinque anni se loro non li seguivano e non accettavano di andare con loro su quell'altro pianeta allora alla fine loro accettano per salvare anche la sorellina qua la sorellina devo dirvi che ha una reazione nel film troppo pacata dico ha cinque anni cioè stril dovrà strillare invece no entrano e lei dice Blair che schifo così punto neanche un punto esclamativo dico cavolo una bambina ai cinque anni vede entrare due esseri orrendi ma sono descritti in maniera oscena proprio esseri schifosi e l'unica cosa che dice che schifo che ci fanno quei due lì così vabbè poi inizia un po' a strillare quando uno dei due la prende e se la mette praticamente tutta in bocca per mangiare allora lì inizia un po' a strillare dice ma forse forse uno strido lo faccio giusto giusto per sicurezza non vorrei che si offendessero insomma dobbiamo dargli un po' di soddisfazione anche se sembrano appunto Franco e Ciccio ma diamogli un po' di facciamoli credere che facciano paura no quindi alla fine detto in poche parole i due nata nell'Indy salgono sulla nave spaziale e sono destinati ad essere schiavi dell'imperatore per sempre eh e allora loro decidono di effettuare un tentativo di fingersi stupidi che lo si capisce subito che fanno finta perché l'unico colpo di scena di questo libro l'unico è che alla fine loro hanno fatto finta di essere diventati di nuovo stupidi per scappare via da quel pianeta ma in realtà si capiva fin da subito perché si vedeva che erano diventati stupidi a dei livelli così estremi cioè giusto per farvi capire gli alieni gli hanno dato i cruciverba da fare durante il viaggio con una matita e loro non sapevano neanche da che parte usare la matita per scrivere cioè lì capisci che stanno facendo finta anche gli alieni non ci cascano per niente però l'imperatore una volta che li vede ci casca lui sì perché arrivano lì i fratelli stanno ancora al gioco e fanno delle scenette veramente da completamente senza cervello cioè fan scenette tipo ah sei di qua ah mi volto ah ti volti anche te si danno delle testate proprio robe a livelli completamente voglio dire comici ma quasi grotteschi e l'imperatore dice ma questi qui non sono esseri intelligenti gli altri due alieni la coppia non ci credeva perché loro hanno visto anche tanti altri esseri umani nel pianeta nella settimana in cui ci sono stati invece l'imperatore non ha mai visto un essere umano prima d'ora quindi può anche capire che li vede così e ci crede che siano veramente ottusi no e allora che cosa fa l'imperatore polverizza i due servi il locco e il furbo che sono venuti sul pianeta terra no li polverizza gli fa sparare dalle guardie e loro due si decompongono sotto gli occhi di tutti questa scena è abbastanza interessante interessante poi però cosa dice polverizzate anche i due esseri umani non servono più infatti io appena ho letto il libro no mentre lo stavo leggendo dicevo certo potrebbe essere un'idea questa qua di fingersi stupidi però dubito che vi riporteranno a casa spenderanno dubito che si metteranno a spendere altri miliardi di dollari di euro per la benzina per riportarvi fino a terra visto che è un viaggio lunghissimo che senso avrebbe vi polverizzeranno anche lì cioè vi mangeranno visto che si sa che mangiano anche gli esseri umani quindi cioè vedranno che siete inutili e vi mangeranno no quindi anzi magari dicono questi qua avranno il cervello buono come nel manga The Promised Neverland che infatti mi ricorda un po' questo libro i demoni che ci sono in quel racconto che è veramente bello quel manga lì veramente bello però cosa succede? che i due ragazzini riescono a scappare prima si nascondono sotto il trono schivando i raggi i raggi laser che io dico queste guardie avranno una mira devastante nel senso di incapaci completi perché gli avevano due metri e sbagliano mira e loro fanno zig zag tra i raggi laser e finiscono sotto il trono dell'imperatore cioè gli permette di finire a contatto con l'imperatore ma che guardie ha cioè è un pianeta di incapaci questo qui allora loro poi riescono a fuggire verso una porticina che vedono verso il fondo del salone di quel meraviglioso salone luccicante specchiato allora si dirigono verso quella porta riescono ancora a mancare tutti i raggi laser non chiedetemi come dei maghi dei maghi beh sono ancora intelligenti in realtà quello è vero però hanno anche molta fortuna qui eh arrivano in questo stanzino e vedono che non c'è via d'uscita è chiuso e arriva l'imperatore che spalanca le fauci e sembra essere pronto o a mangiarli o a incenerirli e qui c'è una parte che non mi ha convinto per niente loro due lindi forse o natan dicono all'imperatore per favore riportaci a casa riportaci a casa e lui è bastata una frase neanche tanto eh riportaci a casa e lui ride e dice va bene potete andare e preme un pulsante fa cadere giù questi due perché si apre una botola sotto di loro e te dici e no sarà una trappola cioè non penso che sia vero che possano andare via e invece il capitolo dopo si ritrovano a casa dallo zio Frank e raccontano allo zio tutto quello che è successo lo zio non si capisce se ci credo o no non viene spiegato fatto sta che lo zio ha il succo d'uva perché è convinto che quel succo d'uva abbia potere eccezionale che gli ha fatti diventare così intelligenti e comunque voglio aggiungere loro non hanno detto allo zio che sono ancora intelligenti gli hanno fatto credere anche a lui di essere tornati normali non proprio stupidi come hanno fatto credere sull'altro pianeta qua su pianeta terra vogliono far credere a tutti che sono tornati normali così possono riprendersi in mano alla loro vita e questo ci sta dici va bene qua hanno ragione così possono un po' tornare a fare una vita tranquilla visto che sono anche così piccoli che meritano anche un po' di tranquillità tutto bene però il finale mi sembra veramente tirato per i capelli cioè ma molto io mi aspettavo un colpo di scena invece questo libro devo dire che non ne offre ci sono molti altri racconti della collana che offrono grandi colpi di scena qua però non ce ne sono il colpo di scena l'unico che ho trovato l'unico se così possiamo chiamarlo è loro che si sono finti stupidi ma in realtà erano ancora intelligenti ma lì te lo aspettavi quello era proprio sotto gli occhi di tutti solamente quei due pirla degli alieni ci hanno creduto no loro non ci hanno creduto solamente l'imperatore solamente quel pirla dell'imperatore ci ha creduto neanche gli alieni e neanche il lettore mi sembra un pochino banale e il finale cioè ma come può un imperatore ma scusami hai lì due esseri umani eh io vabbè avrò letto quella collana che è piuttosto tragica però ve la prendo un attimo questa qua The Promised Neverland che è bellissimo è 20 volumi che parlano di questi bambini che sono allevati in una fattoria da demoni che li allevano solamente per mangiarli eh ci si rifà un pochino a questo un pochino qui però fuggire è quasi impossibile ci sono colpi di scena estremi e nulla è dato per scontato cioè se qua andavi a dire all'imperatore per favore riportaci a casa cioè ma lui non facevi neanche in tempo a dire p la p di per favore che ti aveva già tagliato in due e insomma io non dico di essere così cruenti qui però non è che puoi dire all'imperatore per favore riportaci a casa e lui ok spenderò spenderò chissà quanto di benzina per un'intera navicella solo per portare voi due che manco conosco in un pianeta che manco conosco perché mi chiedete di tornare a casa anziché mangiarvi utilizzarvi prendervi il cervello visto che loro li mangiano gli esseri umani no no io di colpo sono buono di colpo sono proprio il massimo della bontà e vi riporto a casa eh che per affrontare un viaggio infinito chiamare gente che guida la navicella per portare voi due che non conosco a casa perché mi avete chiesto no non mangiarci ma non ha senso non è completamente ma è impossibile io infatti a un certo punto ho pensato quasi che fosse un sogno io mi aspettavo come finale la scusa del sogno perché è troppo tirato per i capelli troppo eh adesso io l'ho riletto l'ho analizzato bene non mi sembra di essermi perso nessun particolare eh ditemelo se qualcuno l'ha già letto mi dica se c'è qualcos'altro sotto che ci lascia intuire altro che a me è sfuggito ma non penso mi sembra chiara la storia un po' semplice come storia ma devo dirvi che non è dei miei preferiti questo qua c'era molto su cui lavorare molto la storia poteva dare tanto però il finale poteva essere un pochino più pensato secondo me eh questo è un parere personale ma insomma questo qua io se dovessi dargli un voto gli do 5 la storia è lunga è un libro un po' più alto degli altri dei piccoli brividi insomma poteva essere ancora un po' più alto eh però se ci forniva un finale un pochino più meritevole detto questo ho parlato fin troppo vedete è una storia semplice però c'è molta eh critica molti commenti che critica non vuol dire per forza negativa è critica positiva è critica negativa però qua ce n'era molto da dire se non altro diamogli come eh cosa positiva che ci offre molti spunti di riflessione di discussione ecco possiamo dire mh cosa ne pensate vi ricordo che c'è qua sotto la playlist con tutte le recensioni degli altri libri anche videogiochi sempre legati ai piccoli brividi quindi dateci un'occhiata se vi piace questo mondo o se vi piace il tema horror in generale detto questo vi lascio qui un altro video sui piccoli brividi un po' diverso che può interessarvi scommetto grazie della visione mettete like fatemi vedere se vi piacciono queste recensioni e noi ci vediamo al prossimo video ciao